Beh, allora ovviamente sono d'accordo con l'equiparazione del matrimonio omosessuale con quella gerosessuale. Questa legge ancora non è completa, è solo un piccolo primo passo per andare in quella direzione, però appunto non si parla di matrimonio ma si parla di notte di fatto, quindi ancora non ci sarebbero tutti i diritti e i doveri che verrebbero con il matrimonio. Però ovviamente dal punto di vista legislativo l'Italia in questo campo è ancora molto indietro, quindi sì, sarebbe il primo di uno dei tanti passi che dovremmo fare per andare in quella direzione. Credo che ormai tutti i paesi occidentali si stiano avvicinando al matrimonio, in Europa siamo uno dei pochi stati che non ha una legge sulle coppie di fatto, quindi credo sia arrivato il momento e adesso è arrivata un'ora giusta e necessaria per fare questa legge.